E siamo tornati con le tre bellissime porte E siamo tornati Allora io, Ferri, devo dirti una cosa La scorsa volta il mio ingegno non è stato apprezzato da tutti Perché sei andato troppo in alto E mai era il tsunami più facile E quello e quell'altro li hai stigati tu Sei stata tu a distigarli Sei stata tu a lamentarti Io ci ho fatto sopravvivere a una calamità naturale E tu ti sei pure lamentata Secondo me, prima di tutto, sarebbe stato più bello il vuoto E secondo me sono stati tutti d'accordo Seconda cosa, Steph Troppo in alto, te l'ho detto anche io Per sopravvivere si fa qualsiasi cosa Sì, ma potevi andare a un'altezza media Ce la giocavamo lì e vedevamo Io ti rispondo in un modo Oggi hai fulmini, grandine e tornado Dato che l'altra volta ho scelto il più semplice Secondo tutti, ma ci facciamo un bel tornado E ma sono cavoli tuoi Io te lo dico Ah, l'hai scelto tu? Sì, sì, andiamo Non devo scegliere Cioè io ero lì ferma che riguardava i cartelli No, 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 tornado Forza Pedala Allora, equipaggiamento di Steph Prova numero uno Prova numero... Cosa? Dove ne hai letto prova numero uno? Eh, ho tre libri Sì Oh, cavolo Cosa vuol dire? La tua non è 4, 5... No, ok, meno male Almeno sono tre prove Parca miseria Ok, allora Abbiamo dell'equipaggiamento che mi preoccupa già Devo essere sincero Prego di prendermi tutto Perché evidentemente se sono tre prove serve tutto Allora, aspetta Prova numero 4, 5, 6, 7, 8 Mi hai trovati? La seconda cesta, Fere Oh no, ti prego Come facciamo a prendere tutte queste cose? Cioè, tutte le armature non mi ci stanno Cioè, cosa devono essere? Una per una prova Una per un'altra? Credo di sì Altre Numero 4, 5, 6, 7, 8 Di nuovo E ci sono altri di questi Favano un'idea di che cavolo dobbiamo affrontare Sai cosa faccio io? Aha Mi prendo una d'oro Che è una via di mezzo Mi indosso questa E arriverci grazie a tutti Allora, non c'è altro, giusto? Ok, fatemi leggere un attimo la prima prova Fammi capire un pochettino Che cavolo dobbiamo fare oggi Ok Crea una casa non troppo grande E prova a sopravvivere Ok 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 Ok, quindi questo oltre Ci ha posto dei limiti Sì Il nostro assistente Sì Ok Non so cosa ci significa Non so se hai notato il cielo Che non l'ho mai visto così Ah Su Minecraft Ok No, neanche io E niente Ok, abbiamo gli stessi libri per fortuna Quindi non era neanche necessario Che ci riprendessimo tutti Quindi bam Questo lo butto Allora, costruisci una casa Non troppo grande Io la faccio in minuscola Perché Sinceramente Vabbè, ma non esagerare Non troppo grande Non farla microscopica Steph Così No Ok, mettiamoci anche del vetro Ecco Guarda lei Ma lei fa le cose carine No, perché così vediamo Steph Quello che ci arriva addosso Buona idea Buona idea Eh, imbecille Le cose carine No, stai facendo l'imbecille Stia calma lei Ok, vai Ok Abbiamo anche una porta Se vuoi Non mi ricordo dov'è Perché ce l'avevo nell'invento Ah, eccola qui Eccola qui L'hai trovata? Sì Per uscire Beh Se vuoi Perché mi è uscito uno più alto Uno più basso? Vediamo Hai qualcosa per rompere? Non devo romperlo a mano No, no, no Ah sì, Fede C'erano Dove? Gli utensili Io ho tutto Non ce li avevo Cioè, mi sono dimenticata di prendere una cesta? Sì Ok, perfetto Ho tutti gli utensili Perfetto Complimenti Grazie Allora, brava Grazie Ecco, ho misato Allora, fatemi tagliare questo subito Ferre, ti vede un po' preoccupata? Beh, sì Non so cosa aspettarmi, sinceramente E che cavolo, Steph La casa è enorme Lo so Cioè, sei andato in altezza No, aspetta Qua facciamo i vetri grandi Ti ripeto Voglio vedere Cioè, se ci arriva un tornado Voglio vedere che cosa ci sta arrivando Diciamo che avevo sbagliato le misure Ok Totalmente Faccio il tetto Decidi tu dove tappare Perché mi stai rompendo le scatole Steph, ha queste manie di fare le cose troppo grandi Non ce la fare Ho provato anche a farla piccola questa volta Qui posso metterlo, sì Sì Ok Vai, vai, chiudi tutto Tutto a posto? Sì, dai È bruttissimo ovviamente Allora Allora, qua come funziona? Perché vedo una cosa per fare teleport Ok 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 No, non ci serve Ok Credo, allora Che Dobbiamo utilizzare quelle machine strane che ci ha dato Eh sì La weather machine Ok Che fanno? Come si usano? Ne metto una? Provo io o provi tu? Eh Boh, vado Vai Ma dove? Qua? Boh, fermi, da qualche parte Ok, poi Lasso destro, immagino Aspetta, ok Oh cavolo Scusa Steph Sono partita Perché tu sei così in alto? Cioè me l'hai fatta apposta? Eh, che sedi? Eh? Dimmi Sei volato o cosa? Sì Sto volando insieme ai blocchi della nostra casa Allora, io sono Perché tu hai sbagliato la cosa da attivare No, era il tornado No La prima prova era con una tempestina di pioggia piccola piccola No, tu mi hai detto che dovevamo fare il tornado oggi Eh, forse sì, è vero Non lo so Che cosa sei dicendo? Non lo so Ma ti sembra normale? Sto volando insieme ai blocchi della casa la due ore Allora, io E non riesco a scendere Allora, io sto girando nella base Ho visto la casa totalmente esplodere e disintegrarsi, Steph E io insieme alla casa Forse dovevamo iniziare un attimino col Quella cosa un po' più sobria Non lo so, Steph Forse avremmo dovuto leggere tutte le prove e regolarci Prima di tutto Io non so come Aspetta TP Ferenichi Fiu No Ma perché io vuole fare no? Io no, rimango giù Non lo so, Steph Boh Forse l'armatura in diamante mi tiene a terra Non lo so, Steph Che cosa succede? Dai, raga Fere, spegnila Non lo so spegnila Dimmi che c'è la machine lì per terra a qualche parte Sì, c'è E faccio il tasto destro Magari la disattivi Eh, grazie Cavolo No, Steph Sto inizionando a volare anch'io No, Fere, ti prego Sei l'unica speranza Tu sembri tipo ancorata Non so bene perché Prova a scendere Ti scoggiuro No, no, non succede niente Aspetta Magari la distruggo Ok, l'ho distrutta Ok Sei vivo? Sono vivo, sì Porca miseria Porca miseria Allora, regoliamoci, Steph Leggiamo tutte le prove Io non voglio mai più avere nulla che fare con me Allora, secondo me Crea una cupola di vetro e prova a sopravvivere Dobbiamo fare le cose una alla volta Prima la pioggerella, capito? No, secondo me è sempre col tornado E devi provare a sopravvivere con bari No, perché guarda Allora, sto leggendo tutti i libri Ok Perché adesso voglio capire Una volta portato in aria dal tornado Dice il libro 3 Quando ti butterà di sotto Piazza un secchiello d'acqua E prova a sopravvivere Vedi? Non lo so fare Non lo so Vuoi entrare nella mia cupoletta? Eh, tecnicamente sì Ma devo anche piazzare poi il blocco Che ci fa Vai Inizia a piazzarlo Ok Un po' distante Por favor Allora, cosa facciamo? Tornado Allora, il tornado gli spazza via i blocchi Non serve a niente Magari il vetro resiste E quello è l'esperimento Dimmi quando c'è Tornado Chiudi Tappa Non ci riesco Ho la tua faccia in faccia Togliti L'ho pa- Ah Va bene, Steph Allora, no, no, no Proviamo un'altra, ok? Sono ripartito, raga Basta, aspetta Distruggo Devo cercare di distruggerla Sono l'unica Va bene, la prova numero 3 Mettere il secchiello sotto di me Sopravvivere Vai Ugo, Ugo, Ugo Bravo, Steph Io poi non vengo portata in aria dal tornado Non si sa per quale motivo Quindi ho fatto la prova numero 3 Mi sembra che non c'è niente Che possa Distruggere sto tornado Allora, vediamo Numero 4, 5, 6, 7 In queste ceste sono presenti 5 armor Prova quale può riuscire a salvarti Ah, mi sono quasi dimenticato Prova a sopravvivere Quindi fare tu Dovevamo partire dalle armature brutte E poi arrivare a quelle belle Nessuno me l'aveva spiegata Te sei partita con l'armatura migliore possibile Beh, perché se vedi i diamanti li indosso Comunque questa sconfigge il tornado E ti lascia un po' a mezzare e un po' a terra Tu voli direttamente Ok? Ok Allora, dato che abbiamo completamente rovinato tutto Perché prima di prendere le cose Dovevamo leggere le prove Come sempre Come è normale che sia Ma sempre ragionano in modi diversi Dalle persone comuni mortali Ed è un insulto Ed è un insulto Non un pregio In nessun modo possibile Esatto E c'è soltanto una cosa che possiamo fare I blocchi di legno sono volati instant Quelli di vetro un pochettino meno instant Non è che la pietra dura ancora un po' di più Proviamo Insomma, rendiamolo un test Ok Per sopravvivere dentro una casa Cioè tu pensa che adesso l'assistente Sta guardando questo video Quando guarderà questo video Pensate l'assistente che fa così No, che farà un facepalm più grande di lui Perché dirà Cavolo, io preparo anche le cose bene Ma sti due sono proprio degli imbecilli patentati E io non ce la faccio più a lavorare con sti due Capito? Cioè, basta Perché è inutile che mi impegni Se poi non capiscono nulla Però è stato divertente Dai, le prove Almeno le abbiamo fatte tutte col tornado Steph, vabbè Allora, vai dentro Ok Ok Ci pensi te? Sì, tappo Eh, però dobbiamo far partire il tornado Eh, lo so, ma basta bucare qua Però tu non hai il piccone, vero? Esatto Vai Devo fare sempre io le robe? Sì Allora, però ci serve un modo Facciamo che ti tieni pronta il teleport Dici? Così, almeno chiudo È iniziando a piovere Io non c'entro niente Ok, ce l'ho pronto Vado Vai No, non è questo Questo Vado Chiudi, chiudi, chiudi Ok 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 Sta reggendo Sta reggendo Sta reggendo Stai volando via Steph E sono qua con te È bello Vedi? Eh sì Vedi, 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 vedi Ah, vediamo se regge per sempre Oppure se ci dà semplicemente un po' più di tempo La mia teoria era corretta, quindi Ovvero che in base al tipo di blocco Si resiste di più o di meno Perché ho notato proprio una differenza tra il legno e il vetro Ok Con il vetro siamo rimasti attaccati insieme Però quei 20 secondi, secondo me, abbiamo retto Sì Mentre con il legno, proprio, cioè, io ho fatto Woo Instant Instant Ma io ho voglia di niente prima stasso Ho visto tutti i blocchi aprirsi e girare così Vedi, giravano insieme a me, lì, vedevo a fianco a me Era bellissimo Il tuo schermo era bellissima quella roba Era davvero un effetto fighissimo Eh, io direi che si conferma Mi sembra tanto che con la pietra Si riesce a non volare via Adesso, vediamo una cosa Così non voliamo lo stesso Mettiamo tipo un blocco di vetro Porta via Lol Legno Sì Guarda come si riporta via, guarda Quindi abbiamo ragione, ragazzi C'è proprio una distinzione Tra i vari tipi di blocchi A parte questo blocco di legno Che ha deciso di reggere È legno magico Ha avuto tutto il te Grazie Perché altrimenti la nostra teoria perdeva senso Così continua a non succedere nulla Voglio vedere Ok Ok Voglio proprio aprire tutto e vedere Sì, ok Se ci basta avere il soffitto Ok Ci sta, ci sta Però mi sei sempre in mezzo C'è un testone enorme Steph è piccola sta base Ah, Fede Io inizio ad avere un effetto di tornado Tu no, vero No Io ce l'ho, guarda Vedi? Non riesco più Ok Mi sta iniziando a grabare Mi sta iniziando a grabare Come pensavo Bruno mi può far volare via Se invece io togliessi questo Così non ci riesci Ma poi mi ha Ti ha aspirato Sì Povero Steph Ma riesco a vederti che svolassi La 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 C'è stato in mezzo in alto Che neanche ti vedo Sì, arrivo nel cielo altissimo Vedo a malapena il corridoio enorme Da dove parte tutto Che faccio? Lo spengo? Eh, mi farebbe comodo Vado Aspetta, è difficile Mi sta sbalzando Ok Poi mi gira un po' la testa Guarda Steph che cade Svolò Ciao Steph Di nuovo E cosa devo fare? Non ce l'avevo più Se che è lì Eccomi, ciao Ok Allora, un po' di cose Le abbiamo scoperte Sì Adesso io vorrei provare A modo nostro Ve le abbiamo scoperte Esatto Importante è quello Vorrei fare un ultimo test Ok Insieme a te Ok Ok Allora, ti togli l'armatura? Eh, metto questa vai Ah, ne hai un'altra tu? Quella di Iron, sì Vediamo se questa resiste Oppure no Tu hai quella di oro Quindi vediamo Ok Mettiamo un sacco di blocchi Attiviamo un tornado E voliamo insieme a questi blocchi Vediamo l'effetto fighissimo Mi piace, vai Perché tanto qua Sopravvivere Si è capito Con l'armatura di diamante Poi è stranissima anche questa cosa Che in base all'armatura Il tornado ti fa volare di più o di meno Allora, a me faceva volare Ma rimanevo praticamente a terra Cioè vicinissima al pavimento Infatti mi chiedo Colazzavo un pochettino Ma vicino al pavimento Mi chiedo se senza armatura Si vola ancora di più Di come stavo volando io Perché magari la mia armatura Comunque in parte mi salvava Non abbiamo idea Probabilmente non torni più Stai a finirci nello stato Allora, raga Secondo me Facciamo un casino Facendo volare tutto questo Ci sei? O continuo? Io sto continuando Esageriamo Pensalo esteticamente Che spettacolo Qua ovviamente Allora, aspettate che mi tolgo Sto andando malissimo Senza l'armatura Senza l'armatura Aiuto A me cerca di far cadere Esatto Ok, sto cadendo Sto cadendo Ok, mi sono salvata Quindi è questa la differenza L'ho scoperta Allora Quando tu Hai l'armatura Che avevo io Volavo Ok, ma non mi rigettava mai Senza l'armatura A me fa volare E poi mi rigetta Dritto in un punto A caso Per cercare di decidermi Che è successo a me Con quella di iron Non sono andata in altissimo Però poi mi ha ributtato giù E anche quando l'ho tolta Infatti mi è successa la stessa cosa Quindi mi metto quella di gold E volo per sempre Comunque Effetto estetico Credo è il più bello Che ho mai visto su minecraft Fantastico Vero Tornado Mi ha buttato fuori Non riesco più a rientrare nel tornado Stef È un peccato Perché io vorrei riandarci dentro Ora che ho quella di gold Te le porti Da dove? Da te? Vai Ciao Oh, finalmente Ti vedo Ma me lo volevo vedere Me lo volevo godere Perché te non ho cogli tanto Fino alto di me, cavolo Perché io sto Sto cadendo Stef, sto cadendo Sto cadendo Acqua, 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 acqua La prima l'ho fatta giusta La seconda La devo sbagliare Eh, non possiamo più disabilitarlo Perché stiamo volando entrambi Sì È finita Eh, ho perso tutto il mio equipaggio Esatto E a me sta continuando a straccellare per terra Abbiamo capito quanto un tornado è forte Siamo riusciti a sopravvivere un po' fortuna Un po' no Abbiamo comunque scoperto che con certi tipi blocchi si può sopravvivere Quelli di pietra Quindi basta non uscire di casa finché non scompare la tempesta È una casa di pietra Una casa di pietra, mi raccomando Non li legno e non li vetro Direi che ci possiamo fermare prima che continui a straccellarmi per terra Qua sotto, come sempre Sono caduta Compariranno nuovi video Iscriviti al canale e campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao